forse del pomeriggio da follonica partiti puro sangue arabo di tre anni sui 1200 metri alla ricerca della prima vittoria in carriera kingdom sgabbia veloce e si posiziona al comando seconda posizione per farà hcm in terza corsia muove deciso fuori legge poi mercurio go e faraona de zamaglia a chiudere sulla prima curva quartetto compatto con fuori legge che chiede strada e la ottiene da parte di kingdom in terza posizione farà hcm a contatto mercurio go più discosta invece faraona de zamaglia siamo verso il termine della retta opposta alle tribune kingdom si ripresenta al fianco di fuori legge lo sopravanza imboccando la piegata conclusiva al suo fianco si fa vedere farà hcm cede fuori legge avanza mercurio go che gradualmente sposta in terza corsia cavalli sulla piegata conclusiva kingdom in vantaggio al suo esterno in diagonale farà hcm e mercurio go addirittura ad arrivo con farà hcm che passa di slancio farà hcm nel finale si deve difendere dall'attacco di mercurio go farà hcm che vince davanti a mercurio go kingdom fuori legge e faraona la de zamaglia piccolo galoppo a 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